buonasera buonasera grazie veramente di essere venuti per vedere un film fatto da una che non si sa se non sapeva fare questi film però quindi grazie della fiducia insomma spero vi siate divertiti e basta grazie a te innanzitutto è bello vederti, averti con noi qui in carne ed ossa da poco che ti abbiamo visto tantissime volte sul grande schermo insomma siamo veramente contenti di darti insomma il benvenuto a Cinema Zero hai esordito con un film che parla insomma anche molto di te anche di una cosa credo non semplice insomma ti sei messa nuda, hai raccontato una tua paura e credo che sia una cosa insomma anche complicata, l'hai fatto con grande autoironia facendoci divertire e anche un po' sicuramente riflettere appunto su una paura che forse non è poi così così rara come si può pensare infatti volevo chiedere chi è che ha paura dell'aereo in questa sala? un rapido sondaggio io l'alzo a metà perché non ce l'avevo poi comincio a vedere questi film ogni tanto ti viene un mezzo dubbio senti la prima cosa è stato terapeutico fare il film per la tua paura di volare? ti ha aiutato un po'? è stato terapeutico per la mia paura di tutta di mettermi in situazioni più complicate di quelle in cui di solito mi metto perché ho vinto tante paure la paura di fare una cosa che credevo di non poter fare di avere a che fare con attori bravissimi di poterli anche dirigere che è una cosa che non sapevo nemmeno da dove cominciare e ho vinto tante mie paure mi sto buttando in una vita che è un po' diversa da quella che di solito faccio io mi sono sempre molto sono una che normalmente non va in giro non sta sempre molto poco a contatto per esempio anche con il pubblico che è una cosa che invece facevo ho cominciato ad avere anche un po' paura invece adesso sto ritrovando attraverso anche questo giro questo tour molta forza dalle persone che vengono a vedermi per me è una cosa importantissima è un grande traguardo insomma per me è un passaggio ho fatto un passaggio importante per me e sono molto contenta che per una volta siano venuti a vedere veramente me un po' di me perché mi sono raccontata chiaramente in maniera ironica o in maniera anche un po' autoironica perché ormai nella vita che vuoi fare ormai è andata così per cui certe cose bisogna anche un po' scherciarsi fare un po' di ironia sulle cose e quindi sono davvero contenta di questa mia nuova esperienza davvero sono molto curioso del tuo rapporto con gli attori e le attrici nel senso che per una volta appunto sei passata dall'altra parte da una parte ti sei autodiretta e quindi ti chiedo com'è anche logisticamente gestire il tutto e poi il rapporto con appunto con gli attori e con le attrici quindi trovarsi nel set ma per una volta in un altro ruolo sono tutti attori bravissimi io ho preso proprio gli attori che volevo e sono soprattutto degli attori bravissimi con i quali ho parlato tanto prima erano comunque incredibilmente entusiasti di fare questo film non lo so perché ma quindi hanno aderito subito e mi hanno anche aspettato nei momenti in cui magari il film aveva magari delle piccole difficoltà siamo stati anche comunque io l'ho scritto anche mentre c'era poi la pandemia quindi insomma quindi ho voluto gli attori insomma sono state persone che mi hanno veramente al contrario di cioè sostenuti loro mi hanno sostenuta veramente però certo avevo un po' di imbarazzo magari al dover dirigere Elena Sofia Ricci o Massimo De Francovic grande attore del teatro o anche Anna Bonaiuto che è un'attrice pazzesca però c'è stato subito un contatto molto semplice perché chi fa l'attore sa parlare ad un attatore in maniera molto semplice senza essere insomma con il nostro linguaggio che è un linguaggio che noi capiamo molto bene tante volte tanti registi che non sanno cosa vuol dire recitare ci mettono molto di più a spiegare a dire a farci e invece c'è una trasmissione diretta molto più e quindi io mi sono trovata benissimo e anche perché facevo tutte le parti insomma gli facevo vedere come fare e io invece poi sono venuta proprio come ultima cosa mi sono molto più insomma cioè non ero più la cosa più importante ecco questo è anche stato un grande insegnamento di questo film avevi scritto tutto proprio in maniera dettagliata o avevi lasciato magari delle parti proprio per questo rapporto avevi scritto no 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 io sono tremenda sono tremenda ho scritto una sceneggia ho scritto tantissime versioni di una sceneggiatura siamo arrivati all'ultima versione ed era dopo tantissime dovevo essere assolutamente sicura di quello che avevo scritto e non ho lasciato agli attori niente di improvvisato di niente mi chiamavano generale bui cioè proprio una rompicoglioni tremenda perché ho detto chissà se sono stati come i neroi della finanza che ogni tanto sparivano dovevano andare a cercare no tu sei stata molto meticolosa allora lì c'è un poveraccio che sta per morire di sonno perché noi veniamo da un tour facciamogli un applauso anche solo per non essere morto di sonno Simone Gattoni che mi accompagna in questo caso accompagnatore proprio speciale che è il produttore per la Cavac Film che è quella è la produzione che ha reso questo film possibile e lo ringrazio anche perché domani se ne va a Parigi mi molla però è stato fondamentale per me insomma conoscerlo l'ho conosciuto durante le riprese con Marco Bellocchio perché anche Marco Bellocchio fa parte di questa produzione quando abbiamo fatto Esterno Notte quindi tutt'altro film loro non avevano mai fatto una commedia potresti venire qui magari? grazie ma è la colpa di questa operazione in realtà perché c'è sempre un ormai a tardi ti racconto qualche aneddoto per poi lasciare la margherita la colpa di questa operazione è di Gianni Amedio quindi c'è tutto dietro un movimento di registi perché Gianni Amedio quando eravamo giovani registi giovani registi eravamo a Bologna a presentare Esterno Notte con Bellocchio mi chiamano e gli dice ma scusami ma da voi l'ha conoscito? sì certo abbiamo appena fatto Esterno Notte no perché c'è un film allora chiamo Margherita leggo la sceneggiatura e vedo un progetto in cui una delle più grandi interpreti che abbiamo avuto nella storia del cinema italiano si mette così in scena prendendosi in giro e l'ho trovata una cosa di una genuinità e di una bellezza che ho detto Marco facciamo questa cosa e quindi poi Marco ha fatto danni perché Marco volare sulla fine Marco mi fa ma pensavo ci vorrebbe volare ci vuole volare volare dico Marco ma costa dire vabbè non ti preoccupare ma che se te ne frega dico ok sì sì coronografia urgente mia l'Umberto I a Roma no c'è stato lo ripeto da giorni però c'è stato tutto un affetto verso Margherita di suoi colleghi ormai perché ormai sono colleghi vari Nanni Moretti Carlo Verdone Bellocchio che con una bellissimo come dire sentimento la sostenevano le davano consigli è stato molto bello ecco questa cosa questo è vero e quindi e più ci sta regalando tutte sane e piene perché è bello adesso adesso terrore no però siccome a me è piaciuta molto questa avventura vorrei farne un altro però stiamo litigando da settimane su cosa fare allora io faccio un controsondaggio se posso Marco vai vai chi ha paura del dentista vedi sentite visto che l'abbiamo evocato ed è un grande amico di Cinema Zero insomma è venuto qui a presentare tutti i suoi film Nanni ha visto il film cosa ti ha detto cosa ti ha aiutato ti ha spinto cosa Margherita Margherita allora questo film secondo me è molto interessante no vabbè Nanni è stato molto carino abbiamo fatto una noi siamo andati alla festa di Roma a Roma c'è questo questo festival e lui la sera dopo ha ripreso il film e l'ha fatto al soccer quindi già questo mi sembrava moltissimo perché io non so Nanni è una persona generosa però non sempre insomma è stato molto carino è stato molto carino è venuto sul set mi ha dato è avuto una scena in cui c'era Anna Buonaiuto era nel Sofia Ricci al ristorante si è seduto bene bene mi piace questa scena molto bene quindi bene abbiamo tutti il ricordo di lui nel Sol dell'Avvenire che insomma interviene un po' diciamo a gamba pesa esatto quindi ho detto magari esatto no no è stato più clemente è stato carino mi ha sostenuto ma veramente ho avuto tante persone che in realtà mi sono state molto vicine non solo insomma umanamente mi sono state molto molto vicine Giuseppe Piccioni che avete visto che ora farà il parrucchiere per tutta la vita credo non so se l'avete riconosciuto il parrucchiere è un stylist e vabbè e poi vabbè insomma tante tante belle cose che mi sono successe in questo film ma devo dire è stato un nuovo inizio per me ecco sì davvero proprio una cosa diversa mi sono un po' tolta da una routine bellissima per carità che era quella dell'attrice però insomma mi sono un po' messa un po' in difficoltà ma è bello ogni tanto ci si rinnova facendo le cose diverse e basta adesso ci toccherà un po' passare la palla a loro e verranno sicuramente tante cose o poche cose da chiederti però l'ultima cosa che ti volevo chiedere perché il film parla ok della paura di volare ma anche di tante altre cose tu hai scelto insomma di ambientarlo anche nel tuo mondo e quindi di raccontarci anche tutta una serie di rapporti attrice agente ma anche rapporto con tua figlia con tuo padre insomma è molto autobiografica diciamo anche questa parte o lì invece c'è più è tutta un po' che chiaramente ogni cosa è un po' da quello che uno ha dentro poi non è che esattamente così di tutto adesso per esempio mia figlia comunque fa e farà l'attrice quindi non deve partire per nessun posto però insomma voglio dire c'è stato un momento in cui ci sono state delle situazioni del genere ci sono tante cose c'è tante cose che ho messo un po' in scena che appartengono un pochino al mio modo di essere di vivere soprattutto di relazionarmi con gli altri quindi sempre secondo me nella scrittura poi ogni cosa parte da te perché comunque sono le tue esperienze che fanno anche parlare e muovere le altre persone le cose che scrivi i personaggi che scrivi tutto sommato quindi un tono generale diciamo del film è il tono che volevo dare io a tutta questa storia quindi ed è un tono che appartiene a me insomma anche il mio modo di scherzare anche il mio modo di ridere di ironizzare è il mio insieme a quello di Doriana certamente della sceneggiatrice ma insomma ogni cosa in realtà poi parte quando è vera quando c'è qualcosa di vero dietro parte sempre un po' da te da quello che hai dentro comunque la parte diciamo che riguarda il cinema è totalmente inventata nel senso che io ho una gente buonissima non è Anna Buonaiut lei veniva tutti i giorni sul set e si faceva un sacco di ridate è la mia vera la gente Elena Sofia Ricci in realtà non è una mia competizione insomma non è una mia così antagonista realmente quindi si è molto divertita pure lei a fare una cosa così insomma vabbè però un po' una realtà trasfigurata una realtà parallela dai chi vuole rompere il ghiaccio chi ha qualche domanda se avete anche qualche così anche pensiero noi non vogliamo litigare siamo per la pace ma scusa Margherita quando mangi giapponese a casa ti vesti sempre così io non so se l'hanno capita quella scena non so l'avete capita cioè almeno come la volevo cioè non che voi siete io forse non l'ho fatta capire però quello era il mio modo di viaggiare perché ecco vabbè così perché una volta mi avevano regalato un kimono effettivamente me lo sono messo e ho fatto un po' finta di stare in un posto dove non stavo voi pensate quando mangia la carne argentina cosa succede in quella parte no vabbè era un modo così per scherzare su quando magari una donna sta sola a casa mi è mai capitato di fare delle cose di mettersi a ballare o di fare no no mai no di vivere così un momento così un po' folle in cui sei sola e dici vabbè e quindi quello era un po' un mio modo di viaggiare poi ho detto vabbè faccio sta danza strana vabbè adesso ve l'ho spiegato ecco volevo chiedere che consiglio daresti ai registi per migliorare la comunicazione con gli attori ah perché perché me lo chiedi perché voglio diventare regista beccata ma non lo so cioè sicuramente forse ti piace anche un po' la recitazione sì un po' sì e allora è questo cioè comunque mettersi un attimo nei panni dell'attore tante volte soprattutto i registi un po' di un tempo fa pretendevano delle cose ma senza saperle spiegare senza saperle oppure con un linguaggio troppo difficile io penso che insomma se uno poi si è avvicinato alla recitazione sa che cosa significa che non è una cosa così così semplice forse l'unico modo è appunto è mettersi in mezzo anche a quel problema lì al problema di dover poi restituire dei sentimenti qualcosa di molto forte o di molto anche non è semplice e soprattutto di arrivarci con una insomma con un po' di grazia ecco quello sicuramente ok grazie vabbè allora in bocca al lupo grazie mille insomma senti Margherita il tuo esordio per chiudere arriva anche in un momento abbastanza particolare dopo n volte che abbiamo sentito in questi anni le crisi le difficoltà del cinema italiano che sembra sempre in difficoltà in realtà arriva in un ottimo momento e tra l'altro caratterizzato da una serie di esordi di tante attrici che hanno fatto insomma dei bei film tu pensi che sia nato pensiamo a Paola Cortellesi ma anche Claudia Gerini Michele Ramazzato ci sono un sacco di nomi insomma che hanno esordito tu pensi che sia nato una sorta di vero e proprio movimento che si è cambiato qualcosa che ci siano anche delle condizioni diverse o è solo stata un'occasione in cui tante persone insieme hanno deciso di fare questo passaggio no beh non lo so è una cosa difficile nel momento in cui lo stai vivendo è difficile capirlo sicuramente le donne con tutte le difficoltà e con tutte le problematiche che hanno avuto che hanno anche in questo settore perché non è semplice però insomma ultimamente sono diventate anche delle persone delle protagoniste del cinema italiano comunque si va a vedere quell'attrice si va a vedere che cosa ha fatto quell'attrice non solo quell'attore e quindi secondo me questa forza anche diciamo questa forza che hanno proprio in un progetto cinematografico nella riuscire a portare tanta gente al cinema proprio come attrici poi ha fatto sì che queste persone siano diventate credo non lo so se poi questo cioè comunque con una credibilità diversa da un po' di tempo fa e poi i progetti che portano sono adesso non parlo del mio però sono sempre dei progetti belli importanti che mancano probabilmente perché magari i registi uomini non si soffermano su alcune cose problematiche che magari vengono affrontate meglio dalle donne quindi e anche da attrici che a un certo punto vogliono vogliono essere più presenti con la loro personalità che è diventata una personalità cioè non lo so penso che sia questo tu che dici io non lo so perché è difficile io credo che sicuramente sono anni che si sta ragionando sull'accessibilità delle donne al fare film e credo che sia stata una lotta sacrosanta e giusta che sicuramente ha aiutato poi sicuramente come dice Margherita una donna ha un punto di vista diverso non voglio dire migliore peggiore però sicuramente che manca mancava un po' nel nostro ma che le attrici siano diventate però delle personalità importanti sicuramente da produttore ci sono più buchi nelle varie facce di età sui ruoli maschili che non sui ruoli femminili secondo me in Italia almeno le ruoli femminili hanno maggiormente hanno una maggiore scelta e poi sai le attrici che stanno facendo la regia sai sono tutte attrici che hanno fatto 10 20 30 90 film quindi che hanno anche un certo una certa conoscenza della macchina cinema ecco quindi unitamente anche al fatto che negli ultimi anni stanno uscendo dei talenti femminili di registe una l'avete qua che è Laura Samani che è un talento brillantissimo secondo me Carolina Cavalli cioè ma parliamo di quindi secondo me è un insieme di elementi ecco nel senso che anche il film adesso non voglio però il film anche della Cortellesi tocca delle cose molto pesanti ma c'ha quella leggerezza che insomma un uomo non avrebbe mai avuto credo così come il film di Margherita è un film che parte soltanto della commedia ma va molto in profondità quindi ci servono le registrazioni non dobbiamo farla diventare poi un'ideologia questa cosa ecco però ci servono e ben venga ecco io sono d'accordo con te il cinema italiano è in un buonissimo momento c'è un problema forse di iperproduzione di progetti microscopici che non si capisce chi li fa perché li fa dove vanno a finire quello è il vero nodo e e forse anche la distribuzione c'è un po' qualcosa su cui ragionare però il cinema italiano sta bene nel senso noi veniamo da lo scorso anno tre film in concorsa Cannes sei in concorsa Venezia quest'anno altri un'opera prima due a Berlino due a Berlino ok settimana incassi comunque stanno funzionando cioè quindi stiamo bene ecco poi adesso vediamo tra mezz'ora il governo si sfacerà tutto perché esatto quindi godiamoci quest'ultimi 25 minuti va beh dai stiamo diventando grazie ancora grazie a voi buona serata allora buonanotte le uscite di sicurezza sono le vostre adesso grazie grazie Grazie.